Da ieri sera è scattata un'ordinanza di sgombero temporaneo per sette famiglie occupanti altrettanti appartamenti di una palazzina privata in via Monte Amiata nel quartiere pesarese di Borgo Santa Maria. È arrivata infatti una segnalazione di verifica di staticità per il civico 2-4, il cui successivo sopralluogo dei vigili del fuoco ha portato a decretare le abitazioni come non fruibili. È stata quindi disposta l'evacuazione con sgombero temporaneo. Sul posto anche l'amministrazione comunale con il sindaco Biancani che dopo un primo sopralluogo ieri sera si è di nuovo recato sul posto nel pomeriggio con i tecnici comunali e la polizia locale per confrontarsi con le famiglie e trovare soluzioni ad un comprensibile malessere per la situazione creata. Stiamo parlando di un problema che riguarda sette famiglie ma il cui intervento di sistemazione deve essere portato avanti direttamente dai condomini. Con noi oggi è venuto l'ingegner Paci che sta seguendo i condomini ormai da un po' di tempo e rispetto a quello che ha visto non ci sono le condizioni per rimuovere questa ordinanza che ho fatto ieri sera e quindi purtroppo devo ribadire che per i condomini gli abitanti non potranno entrare in casa neppure questa sera. Quando dico questa sera almeno non potranno entrare fino a circa il 10 di settembre quindi tutto il mese di agosto e non solo perché l'ingegnere ha l'idea previsto di fare tutta una serie di verifiche, un monitoraggio per verificare quella che è la quantità del movimento che è in atto. Quindi nel frattempo però l'ingegnere presenterà il progetto entro questa settimana ai condomini. Io mi auguro che la prossima settimana i condomini approvano il progetto in assemblea condominiale per poi andare a presentare il progetto al genio civile e ovviamente in comune. Quello che ho potuto dire è che sicuramente garantirò, cercherò di interfacciarmi anche con i varienti per far sì come dire che il progetto possa essere approvato nei tempi più brevi possibili, questo per far sì che ovviamente prima parte il progetto, prima le persone possono rientrare. Mi auguro che questa verifica che viene fatta per circa un mese possa consentire all'ingegnere di fare una relazione che consente magari dal 10 di settembre di poter rientrare alle persone. Ripeto, è un problema tra privati, quindi il comune paradossalmente non c'entra nulla. Il comune però vuole essere vicino a queste persone perché perdere la casa dalla sera alla mattina non è sicuramente una cosa semplice. Come amministrazione comunale ho ribadito il fatto che noi mettiamo a disposizione la palestra proprio qui sotto a qualche centenaio di metri dove i residenti possono andare a vivere, comunque a dormire di notte. Al momento perché c'è un'ordinanza dove la custodia viene comunque mantenuta in capo i residenti, nel senso che i residenti non c'è la polizia che in qualche modo deve custodire il bene, il bene viene custodito dalle famiglie stesse e ovviamente loro si possono organizzare anche in maniera differente, cioè andare a dormire da qualche amico, da qualche parente o prendere un altro appartamento. Sta di fatto che l'ordinanza parla chiaro all'interno dell'edificio fino a quando non c'è un'ordinanza che annulla quella che abbiamo fatto ieri sera non si può stare. È un periodo sicuramente come di brutto perché siamo anche in agosto quindi anche per trovare i laboratori non sarà semplice però ho chiesto, ho dato massima disponibilità a poter anche come amministrazione comunale andare una mano per riuscire quanto prima a risolvere questo problema.